Buongiorno a tutti, parliamo oggi di fascia e mal di schiena e di come alcuni movimenti ed esercizi possono prevenire e coaudivare la prevenzione rispetto ad alcune algie della parte toracico-lombare. La diagnosi del mal di schiena può essere variabile, ci sono tantissime cause che possono essere sia traumatiche sia che riguardano problematiche alle vertebre o problematiche strutturali, ma la maggior parte dei mal di schiena sono dovuti a problematiche fasciali ed è su questo argomento che noi ci focalizziamo adesso e rispetto a questo argomento abbiamo proposto degli esercizi e dei movimenti specifici. Dalle ultime ricerche nell'ambito dei Fascia Congress presentati da Robert Schleip sappiamo che ci sono tre strati fasciali nel tratto toracico-lombare di coppie di muscoli che si muovono sinergicamente e che uniscono un po' come dei cardini tutta la parte lombare. Il primo strato più superficiale è formato dai grandi glutei e dal grande orsale. Il secondo strato un po' più profondo è formato dai tendini della gamba fino agli erettori della spina o i paravertebrali. E infine il terzo strato un po' più profondo è formato dai due trasversi che arrivano ai processi spinosi. Una volta si pensava che sollevando i pesi e trattenendo gli addominali si potesse proteggere di più la schiena. Oggi si sa che invece i trasversi sono molto più importanti nell'implicazione dell'erezione della schiena e quindi nel mantenere protetto il tratto toracico-lombare. Ogni volta che solleviamo un peso, soprattutto se è un peso molto elevato, possiamo incorrere in dolori toracico-lombari. Dobbiamo per questo allenare la nostra fascia ad essere più elastica, a permettere alle fasce di scorrere meglio tra loro e sviluppare maggiore proprio sezione e elasticità delle fasce. Per questo provate e sperimentate gli esercizi che abbiamo preparato per voi. Ricordo che anche lo psoas è molto importante perché originandosi nel tratto toracico-lombare e inserendosi nel trocantere ha comunque una funzione importante sia posturale sia nella rigidità e nel mantenimento del tratto toracico-lombare. Quindi la manipolazione, il psoas e della parte lombare è sempre importante, il lavoro fasciale manipolatorio è sempre importante, ma gli esercizi che abbiamo preparato per voi sono comunque molto molto efficaci. Provateli e poi mi dite. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.